Festa della mamma in grande stile per il primo circolo didattico Giovanni Falcone di Conversano. Tre giorni intensi che vedono protagonisti i piccoli alunni dell'istituto e di loro genitori con un fitto calendario di manifestazioni. Il taglio ufficiale del nastro è stato affidato al sindaco Lovascio e Monsignor Fabale, neovescovo della diocesi di Conversano Monopoli. Durante la cerimonia di inaugurazione il dirigente scolastico, professor Gerardo Magro, ha consegnato un omaggio floreale alle docenti e alle mamme con più figli nell'ambito della scuola Falcone. Nel pomeriggio l'esibizione dell'orchestra della scuola media Carelli Forlani, intervento musicale a cura di Nunzio e Michele Laudadio dei Panama, il mercatino dei fiori, i laboratori dedicati alla manualità ed il gazebo gastronomico con gli amatissimi panzerotti. I festeggiamenti proseguiranno per l'intera giornata di sabato e domenica mattina con la mostra di disegni dei bambini, incontri su alimentazione e riciclo, letture, musica, balli e l'animazione di Vito Di Leo. Nella giornata ufficialmente dedicata ai festeggiamenti per la mamma, giochi e disegni a scuola fino a pranzo, momento in cui la festa diventerà privata per ogni famiglia.